incendio in Ancona, vigili del fuoco di Pesaro ancora al lavoro, domani riassino le scuole coronavirus sono 37 i nuovi casi a livello regionale, 13 nella provincia di Pesaro fino la ministra De Micheli in visita alla Valmex, passi avanti per la Fano Grosseto il conservatorio Rossini ospita le audizioni della scuola CET, intervista al maestro Mogol benvenuti al nostro telegiornale, oggi è giovedì 17 settembre e partiamo parlando degli aggiornamenti riguardanti l'incendio che ha colpito la scorsa notata il porto di Ancona perché la sindaca Valeria Mancinelli ha annunciato nel pomeriggio che domani verranno riaperte tutte le attività precedentemente chiuse, scuole, impianti sportivi all'aperto, parchi, centri semiresidenziali, chiusure precauzionali legate principalmente alla qualità dell'aria e all'eventuale presenza di sostanze nocive alla salute. Gli esami effettuati da ARPAM hanno però rivelato l'assenza di sostanze tossiche nel perimetro cittadino. Sul logo del rogo invece è stato registrato un valore di cianuri di 10 volte inferiore il limite di legge consentito. In tutta la giornata non sono stati segnalati casi sospetti o richieste di aiuto in ospedale per interventi particolari. Ulteriori aggiornamenti arriveranno tra domani e dopodomani con i dati su metalli e di ossina. Nel frattempo è stata aperta un'indagine dalla Procura della Repubblica per indagare sulle cause che hanno condotto al tragico incendio che fortunatamente non ha registrato vittime o feriti. Attualmente non è stato inserito alcun nome all'interno del registro degli indagati. I vigili del fuoco del comando di Pesaro sono stati impegnati anche oggi sul luogo dell'accaduto per continuare le operazioni di spegnimento dei focolai che si sono sviluppati a partire dall'incendio centrale. Ed ora i consueti aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus sul nostro territorio con il bollettino quotidiano del Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.695 tamponi, 982 nel percorso nuove diagnosi, 713 nel percorso guariti. I positivi sono 37 nel percorso nuove diagnosi, 13 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 11 rientri dall'estero, 3 contatti stretti di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 12 contatti domestici e 8 casi in fase di verifica. Ed ora torniamo ad occuparci del trasporto pubblico che soprattutto in questa settimana sia a livello locale ma anche a livello nazionale ha tenuto banco appunto questo argomento, la ripresa delle scuole. CNA FITA è intervenuta sul nodo trasporti per parlare di alcune criticità che si sono registrate in questi primi giorni di ripresa delle corse scolastiche e anche di una possibile soluzione da adottare anche per i mesi invernali. Vediamo. A distanza di qualche giorno dalla ripresa scolastica il settore trasporti continua ad essere uno dei nodi più discussi. Se sul fronte lezioni non si registrano situazioni problematiche grazie anche alla scelta di diversi istituti di dividere la didattica tra lezioni frontali e in streaming, la CNA FITA ha evidenziato alcune criticità riscontrate da Adrebus per cui i mezzi integrativi messi a disposizione dall'azienda non basterebbero a coprire corse e capienze. Da qui la proposta di affiancare ai bus pubblici mezzi di compagnie private. Ipotesi non disdagnata dal direttore di Adrebus Massimo Benedetti il quale ha parlato di soluzione considerabile nel momento in cui le risorse a disposizione dell'azienda dovessero non risultare sufficienti. Ad oggi però Adrebus e Regione Marche fanno sapere che l'azienda ha già ampliato il proprio bacino di capacità sulle tratte più problematiche tra cui quelle da e per Acqualagna, Fossombrone e anche Cattolica. Per quanto riguarda il trasporto studenti purtroppo sta succedendo in maniera ancora molto limitata ma quello che supponevamo già dall'inizio addirittura nel mese di aprile quando si ragionava su come far ripartire i veicoli che trasportano passeggeri e su quello ci siamo basati in andare a chiedere alla Regione di essere coinvolti come rappresentanti alle piccole imprese di trasporto persone rispetto all'utilizzo dei nostri veicoli per il trasporto degli studenti. confronto avvenuto con la Regione nel mese di aprile e maggio, ad oggi la Regione ci ha chiesto di avere un report di quelli che sarebbero i veicoli a disposizione e gli è stato fornito un primo elenco, però ad oggi ancora non abbiamo avuto richieste specifiche, le nostre imprese non sono state di fatto ancora contattate, mentre ci risulta che anche se il sistema scolastico ha azionato la presenza dei studenti, il tempo e anche la loro presenza, già alcune criticità che potrebbero diventare gravi nel momento in cui si dovesse arrivare al cattivo tempo e alla stagione a cui andiamo incontro e quindi anche al fatto che poi probabilmente gli studenti si dovranno anche arricchere presso le scuole in maniera quindi tutti assieme, in quel caso non avremmo gli strumenti per poterli muovere e quindi le nostre aziende che hanno sofferto lockdown, hanno sofferto la mancanza del turismo e quant'altro sono coi veicoli anche aggiornati Euro 5, Euro 6 a disposizione del pubblico per poter svolgere i propri servizi. Passi avanti per il completamento dell'affanno Grosseto, la cosiddetta strada dei due mari è stata uno dei temi trattati dal ministro delle infrastrutture Paola De Micheli in visita ieri alla Valmex di Lucrezia di Cartoceto insieme ad alcuni politici locali e al candidato governatore del centro-sinistra Maurizio Mangialardi. Simone Celli ha seguito questo incontro. La nomina di un commissario, il bando di gara entro l'inizio del 2021 e l'avvio dei lavori entro altri sei mesi. Sono questi i primi step verso il grande traguardo che tutti aspettano da ben 30 anni, il completamento dell'affanno Grosseto. La cosiddetta strada dei due mari ha attraversato governi e amministrazioni regionali rimanendo di fatto finora un'eterna incompiuta, ma c'è una luce in fondo al tunnel. A mostrarla è stata la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli che ha ricordato come il progetto dell'affanno Grosseto sia tuttora all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che, nelle intenzioni, la gara della guinza verrà effettuata all'inizio del prossimo anno. I lavori, invece, potrebbero cominciare già a metà del 2021. Uno step fondamentale è rappresentato dalla variante di Mercatello, per una spesa di 100 milioni di euro ma che è ancora in fase di progettazione. Altrettanto importante è la variante di Urbania, dal costo di 114 milioni che però non sarà appaltabile prima del 2022. Con grande soddisfazione del candidato governatore delle Marche Maurizio Mangialardi, la De Micheli ha fatto luce anche sul possibile arretramento della ferrovia adriatica, per cui RFI effettuerà entro l'anno uno studio di fattibilità. Per il casellino di Fenile, soluzione che agevolerebbe la viabilità tra Fano e Pesaro, la strada sembra invece ancora in salita. Un imponente piano infrastrutturale che il Ministero ha finanziato e sta finanziando. Il nostro candidato Mangialardi, il nostro candidato presidente, ha fatto un punto molto approfondito con me negli ultimi giorni e ha richiesto una grande attenzione per le Marche che noi contiamo, alla quale noi contiamo di dare una risposta importante. Io sono qui anche per confermarvi che commissarieremo la Fano Grosseto, che abbiamo incaricato a RFI di progettare l'arretramento della linea ferroviaria adriatica, così come per il nord e per il sud delle Marche ci sono altre importanti novità infrastrutturali. Un lavoro molto approfondito che riguarda le aree centrali della vostra regione, che conosco molto bene, come sapete, e al quale il Ministero e il Governo vogliono dare una risposta positiva. Quindi ringrazio Mangialardi anche per la profondità con il quale abbiamo affrontato un ridisegno infrastrutturale complessivo delle Marche. Ovviamente oggi vi ho anche confermato che abbiamo previsto di inserire nel piano degli investimenti di autostrade per l'Italia anche il completamento della terza corsia sulla A14. Per la prima volta abbiamo la possibilità di avere risorse importanti per la Fano Grosseto ma per la soluzione infrastrutturale della nostra regione. Vedete dal Recovery Fund 9 miliardi che arrivano per la nostra regione significa cambiare faccia, cambiare mobilità e modalità. L'interconnessione Mari e Monti e le penetrazioni nord-sud di questa regione troveranno finalmente una soluzione. E adesso torniamo a Pesaro perché l'assessore Franco Ellucci ha deciso di prorogare anche nei mesi invernali la possibilità per le attività cittadine di estendere le superfici dei locali utilizzando porzioni di suolo pubblico. Ce ne parla appunto l'assessore in questa prossima intervista. Abbiamo deciso in giunta, anche ci erano arrivate delle richieste di alcuni ristoratori, quindi abbiamo pensato di agevolare le attività economiche della nostra città e quindi avranno la possibilità fino alla stagione invernale, quindi speriamo che ci siano le giornate come oggi di sole e di poter rimanere con gli stessi spazi che hanno richiesto per l'estate. Una modifica è necessaria solamente per quelle attività che si trovano su zone pedonali? Allora, per quanto riguarda quelle concessioni che sono state rilasciate tramite APU dovranno riscrivere di nuovo all'ufficio attività economiche, ma velocemente troveranno una soluzione. Ed è una misura che ha soddisfatto tante imprese proprio per il periodo di lockdown e il successivo che si è vissuto a causa dell'emergenza Covid-19? Sì, abbiamo avuto una risposta positiva, le attività sono rimaste contenti, abbiamo avuto anche un incontro pochi giorni fa con alcune attività del mare e ci hanno detto che finalmente hanno avuto anche una risposta riguardo al fatto che non pagheranno la TOSAP. Novità anche poi per il bando destinato alla comunicazione dell'azienda pesaresi? Sì, esatto, il bando è partito, sono arrivate le richieste dalle imprese, ora gli uffici stanno controllando che sia tutto in regola e poi verrà guardata la data di arrivo e l'orario e poi potranno accedere ai 5.000 euro con i voucher come avevamo promesso. Ricordo che è la prima volta che un comune riesce a fare un bando indirizzato alla piccola e media impresa. Possono inviare le domande nel sito del comune di Pesaro, è chiaro che devono essere tutte domande che seguono il bando e i requisiti, ad esempio attenzione anche ai codici Ateco che sono all'interno del bando. Questa mattina presso il Conservatorio di Pesaro si è tenuta una conferenza stampa per annunciare le audizioni che si sono tenute sempre in data odierna di giovani talenti marchigiani desiderosi di far parte della scuola CET fondata dal maestro Giulio Rapetti in arte mogol che abbiamo intervistato in esclusiva e vi facciamo vedere chiaramente subito l'intervista. Si sono svolte oggi nell'auditorium del Conservatorio Rossini le audizioni dal vivo dei giovani talenti marchigiani per accedere al CET, scuola fondata dal maestro Giulio Rapetti mogol per perfezionare le proprie competenze in campo musicale e intraprendere la carriera artistica come autori di testi, compositori o interpreti. 31 le domande pervenute tra giugno e luglio dopo la pubblicazione del bando emesso dalla regione Marche per la selezione dei 15 destinatari dei corsi. Ad esibirsi dal vivo oggi davanti alla commissione di valutazione presieduta dal maestro Mogol e da due docenti del CET sono stati 25 ragazzi che avevano già passato una prima selezione sostenuta durante l'estate. Siamo qui per selezionare i giovani, le 15 borse di studio che la regione Marche ha fornito ai giovani qui presenti. Chi ha operato questa scelta è stata l'assessore Loretta Bravi che pensa, sempre ai giovani e alla loro formazione. Posso dire che il conservatorio invece riceverà direttamente le borse di studio tramite il Ministero della Cultura, il Ministro Franceschini, perché queste borse saranno destinate ai docenti dei conservatori che vogliono apprendere la didattica del pop, in modo che possono insegnare sia la classica che il pop. La seconda edizione quindi che arriva dopo la prima ha riscosso un grande successo e proprio per questo è stata realizzata la seconda. Sì, questa è la seconda edizione, stiamo ultimando la selezione e questi sono ragazzi che stiamo preparando professionalmente perché possono anche lavorare. Invece quelli che arriveranno, le borse di studio del conservatorio saranno invece i futuri docenti. Un augurio a questi ragazzi che oggi saranno queste audizioni? Beh, l'augurio è chiaro che lo facciamo, lavoriamo nell'intento di prepararli a massimo livello e l'augurio di loro che si distinguono e che diventino dei professionisti capaci. È una giornata importante per una presenza straordinaria che è quella del maestro Mogolle e per un'iniziativa di grande generosità che lo stesso maestro ha messo in piedi dedicandosi alla formazione dei giovani. Per noi conservatorio che abbiamo già ospitato la selezione della seconda edizione di questo corso è una grande possibilità perché stiamo avviando un processo di collaborazione con questo centro per allargare l'ambito di insegnamento del conservatorio anche alla musica pop perché come diceva il maestro non c'è musica classica e musica moderna, c'è musica bella o musica brutta. È stata intitolata Cristian Terenzi la nuova RSA di Villa Fastigi. Allo svelamento della targa ieri pomeriggio nella struttura sociosanitaria Santo Stefano, oltre alle famiglie Terenzi e al presidente della regione Luca Ceriscioli, erano presenti anche gli assessori comunali Mila della Dora, Sara Mengucci e Andrea Nobili. A Cristian Terenzi, ex presidente di quartiere scomparso nel 2012 dopo oltre sei anni di coma, era già stato intitolato un giardino ed una pista ciclabile. Nuovi cambiamenti in vista per l'ABS Group che accoglie nel suo leadership team Massimo Potenza, il quale lavorerà con l'obiettivo di guidare l'implementazione del progetto riorganizzazione e trasformazione al fianco di Roberto Selci, amministratore delegato del gruppo. Potenza assumerà la carica di co-amministratore delegato, non appena saranno compiute le necessarie procedure interne. Sono più di 2.100 i volontari Ant impegnati ad oggi in tutta Italia, oltre 200 quelli operativi nelle Marche. La delegazione Ant di Pesaro ha avviato una ricerca straordinaria di volontari per la campagna dei fiori d'autunno, che si svolgerà in alcune date del mese di ottobre nelle piazze di Pesaro e Fano. Per informazioni e per candidarsi a volontari Ant a Pesaro e a Fano, basta chiamare il numero 348 26 26 147, oppure scrivere a daniela.mengacci.chiocciolahant.it Potete anche visitare il sito www.ant.it slash marche. Si chiama Classic Tour, la trasferta di tre giorni in terra marchigiana dei soci del Collectors Historic Car Club di Cesena. Venerdì 18 la partenza e la prima tappa sarà a Pesaro con una sosta di due ore in Piazza del Popolo, dalle 10.30 alle 12.30. Una vetrina di auto d'epoca costruite entro il 1975 si lasceranno ammirare, mentre i partecipanti, accompagnati da una guida, visiteranno il teatro e la casa natale di Gioacchino Rossini. Un altro appuntamento da segnalare è per sabato 19 settembre, nella suggestiva cornice del barco ducale di Urbania, l'Associazione Alma ha il piacere di consegnare a Gian Alberto Bendazzi il premio speciale Animazione 2020. Sarà un'eccezionale occasione per vivere una giornata di incontri, disegni animati e aneddoti raccontati da una delle voci più importanti della storia del cinema d'animazione internazionale. La cerimonia avrà luogo alle ore 19 e al termine dell'evento sarà possibile partecipare alla cena conviviale. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.visiturbania.com E il turismo nella nostra provincia continua anche per tutto il mese di settembre. Il direttore di Confcommercio Amerigo Varotti ci ha infatti raccontato nella prossima intervista il successo riscosso dagli itinerari della bellezza grazie proprio alla presenza di numerosi visitatori. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'itinerario della bellezza fosse un territorio sostenibile, un territorio dove poter incontrare l'Italia vera, l'Italia della cultura, l'Italia della bellezza, l'Italia dell'enogastronomia, in tranquillità e in sicurezza perché sono luoghi dove il distanziamento è naturale e questo nostro convincimento sta oggi avendo un riscontro con le presenze che vengono assicurate da questi gruppi di turisti. Peraltro nel mese di settembre avremo anche un educational tour con agenzie di viaggio sempre del nord Italia che saranno Trafano, Pesaro, Urbino, Cagli, Mondavio e Pergola per apprezzare veramente l'offerta del nostro territorio. Poi l'itinerario della bellezza prosegue perché stiamo elaborando e uscendo con il nuovo itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini, mentre abbiamo già prenotato il nostro spazio alla fiera del turismo archeologico di Pestum dove saremo presenti anche con la regione Marche. Vincitore di questa stagione estiva si può dire che è stato il turismo di prossimità? Sì, questo era evidente. Con la pandemia avrebbe ridotto i viaggi lontano, avrebbe ridotto i viaggi eliminati, i viaggi all'estero. La riscoperta del nostro territorio, la riscoperta dell'Italia era all'ordine del giorno. Avremmo avuto un turismo di prossimità e questo ha consentito a molti marchigiani di conoscere meglio le Marche, a molti residenti nella nostra provincia, di scoprire le eccellenze del nostro territorio. L'itinerario della bellezza ha contribuito a farle conoscere perché in fondo è l'unica guida presente anche negli uffici di informazione turistica che dà un'informazione su un territorio più vasto, che appunto sono i 12 comuni più belli della nostra provincia. E anche il lavoro che è stato svolto, webinar, blog, social, ha consentito di far emergere questa realtà. E quindi il turismo di prossimità ha premiato questo territorio. Siamo quasi all'ingresso della stagione autunnale e diversi sono i consigli per vivere meglio, ma soprattutto per riposare meglio. E allora abbiamo interpellato un esperto in questo settore, lui si chiama Giovanni Arduini ed ha un'azienda proprio qui nel Pesarese. Sono due fattori, c'è il primo che è psicologico, perché il buon tempo, il tempo bello, alle persone a casa dà il buon umore, la voglia di aprire finestre e fare rinnovamento, cambiare. Cambiare. Cambia di stagione. Che viene fatto normalmente, ci sono due periodi, primavera e dopo l'estate, dove le persone si rinnovano. Quello del primavera viene per il fatto che, come dicevo, dopo l'inverno apri le finestre, c'è bisogno che rinnovo il faccio, pulisco il materasso nuovo. Quello del primavera viene perché prima di richiudirmi dentro voglio rinnovare, voglio mettermi a posto. Ed è il periodo stagionale. Poi c'è anche un fattore tecnico che è quello di avere per la stagione, comunque sia, un materasso nuovo, disinfettato, pulito, visto che non avrai possibilità di stare a finestre aperte, lavare, perché poi i materasci oggi sono tutti lavabili, sfoderabili, e fai difficoltà a lavarlo, a riasciugarlo di quanto è invernale, lo acquisto, perché nell'inverno ho tutto, l'inverno nuovo, poi in primavera lo rilavoro, lo disinfetto. Hai una necessità fisica sia di calore, chiamiamo, perché in estate dormi principalmente scoperto, per cui sei appoggiato sopra, in inverno invece hai bisogno di coprirti in qualche modo, e ti vesti e metti delle posture, è statisticamente provato, che hai delle posture più conservative per il calore, ti dormi meno aperto, diciamo, sei un po' più chiuso la postura. E soprattutto in inverno, non si sa per quale motivo, in spiegabile, si risentono maggiormente le posture sbagliate, per cui avere un nuovo materasso con una postura più corretta, migliore alla persona, aiuta. Per cui ci si prepara andare in letargo in inverno con un materasso nuovo. Il cuscino è un appendice molto importante al materasso, perché molti pensano che sia una cosa staccata, succede che magari qualcuno pensa, ho male la cervicale, cambio solo il cuscino e non risolve il problema, perché la cervicale trattiene tutte le tensioni della colonna vertebrale. Per cui se tu non fai stare nella postura corretta la tua colonna vertebrale, la cervicale è male contratta. Per cui una cosa compensa l'altra. Molte volte si risolve problemi cervicali con il materasso, non con il guanciale. Logicamente facendo un materasso nuovo è consigliato anche avere un guanciale che completa la postura. L'informazione di Rossini TV aumenta e si integra sempre di più. Infatti a partire da domani alle ore 19 torna la seconda edizione del Valle Foglia Magazine. Quest'anno condotto da Andrea Sabatini. Cos'è il Valle Foglia Magazine? È il notiziario settimanale della città di Valle Foglia, dove potrete trovare dei servizi, delle notizie riguardanti proprio questo comune. Potrete anche partecipare attivamente inviando le vostre segnalazioni per denunciare le cose che non vanno oppure anche solo per segnalare degli eventi e delle iniziative che organizzate proprio nel territorio di Valle Foglia. Come fare per partecipare? Allora potete mandare un messaggio al numero 320 15 32 912 oppure scrivere alla nostra mail ufficiale vallefogliachiocciola rossinitv.it E allora non perdetevi, mi raccomando, l'appuntamento di domani alle 19 con il nostro Valle Foglia Magazine. Chiudiamo invece questa edizione parlando di sport perché sabato 19 alle ore 18.30 prenderà il via il primo campionato di A2 della storia della Megabox Valle Foglia. La squadra guidata da Fabio Bonafede infatti sarà ospite del Volley Soverato squadra esperta che conosce bene questa categoria. L'incontro diretto da Fabio Scarfò e Walter Stancati sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV la web tv ufficiale della Lega Volley Femminile di Serie A. E come di consueto vi vado a informare quelli che sono i programmi della nostra prima serata cioè questa sera alle 21.15 potrete rivedere se non avete partecipato quest'anno l'edizione nuova del Brodetto Fest appena conclusa appunto a Fano. Alle ore 21.15 replica anche alle 22.30 tutto il reportage. Ma vi ricordo anche che l'informazione appunto come ho detto poco fa aumenta sempre di più su Rossini TV da quest'anno, da questa nuova stagione c'è la rassegna stampa anche il sabato mattina quindi vi aspettiamo sabato alle 7.20 in diretta sia TV che Facebook in questo caso ci sarà Antonio Astuti. Ho detto davvero tutto io vi ringrazio per averci seguito anche questa sera domani l'appuntamento della rassegna stampa con Daniele Romagna io vi auguro buon proseguimento di serata.